un salutone un abbracione dal vostro italo cuoreggioroso ragazzi vi devo avviso importante mi hanno mandato lo strike mi hanno momentaneamente chiuso il canale fino al 17 dicembre che non potrò fare live io non ho fatto nulla di nulla di nulla io ce l'ho contro chi ha mandato lo strike lo denuncerò non me ne fotto un cazzo ce l'ho contro youtube perché voi siete una massa di vigliacchi come fate a dare uno strike a una persona che non sta violando niente di niente io agirò per via legale non me ne fotto un cazzo il mio lavoro di tanti anni di youtube non lo voglio bloccato per tre mesi adesso che il canale sta andando a gonfierele io vi denuncio vi denuncio a te che hai mandato lo strike ti denuncio non che tu porti a me in tribunale ti porto io a te e io lo dico a tutti gli iscritti chi è stato questo buon figlio di buona donna chiunque esso sia io lo denuncio non me ne fotto un cazzo io non ho fatto niente nessuna violazione sono pulito al cento per cento non ho fatto niente di niente comunque ai miei iscritti vi invito a passare a twitch faremo tutti i contenuti su twitch su italo italo gamer 1 faremo tutte le cose che stavamo a fare su youtube e a voi a voi che avete mandato lo strike io vi porto in tribunale io a voi se non aprite immediatamente il canale vi porto che adesso avete rotto i coglioni e a youtube stesso lo porto perché sono quattro mesi che aspetto la la monetizzazione da 4.000 ore ce ne ho 9.000 a me non mi interessano i soldi però ho preso per il culo da youtube e dati strike fa soldi io vi porto a tutti in tribunale avete rotto i coglioni adesso basta andate a mettere gli strike a chi se li merita no a chi fa la cosa per puro divertimento io vi porto in tribunale vi porto in tribunale non ho paura di nessuno io vi porto in tribunale non me ne fotto un cazzo perché il mio hobby il mio lavoro il mio passatempo il mio lavoro non è il mio lavoro il mio passatempo non lo voglio vedere in fumo per voi invidiosi e non lo so sti strike per cosa cosa stavo a fare io niente niente zero zero limpido forse il più limpido di tutti quindi chiedo risposta subito e vi porto io in tribunale e voi i miei iscritti io mi scuso passate su italo italo gamer che faremo i contenuti che facevamo anzi meglio meglio su twitch mi metto l'audio bastardi di merda e tutti gli invidiosi che ci sono su queste piattaforme che fanno queste segnalazioni perché queste sono invidiosi persone invidiose e vigliac un salutone un abbraccione dal vostro italo cuore giallo rosso ragazzi andiamo su twitch e su youtube vi porto in tribunale ve lo giuro grazie a tutti